L'Argentina ti hanno fatto scorticare la sostanza militare e la dura disciplina. Toglietegli le mostrine, è meglio che se ne vada, disse stringendo la spalla. Vergogna, chiama vergogna, la patria non ha bisogno di ladunque e di strada. Giovanni si allontanò, non avendo dove andare, gli scese la via del mare e camminò, camminò. Camminando gli sembra di avere l'amico a fianco e non si sentiva stanco e così gli raccontava della bella che gridava e di quel cavallo bianco. E camminando arrivò fino alla riva del mare, decise di riposare, si stese, si addormentò e riposando sognò quello che aveva imparato, non tanto il significato ma il suono delle parole che bollivano nel sole come mostro fermentato.